Ciao, Gossip News! La biancaneve ha i tratti delle ragazze d'oggi, quindi un po' posizionata sull'effimero, la festa, il party, non puoi mancare a questo, non puoi mancare a quell'altro, che però poi scopre quelli che sono i valori veri della vita, che è un po' il percorso che tutti noi facciamo nel passaggio dall'adolescenza alla maggiore età.